L'inceneritore San Rocco a Cremona rimarrà attivo fino al 2024 e brucerà ogni anno 58.000 tonnellate di rifiuti. È questa la risposta del ministro Gianluca Galletti all'interrogazione del deputato Franco Bordo di SEL, che puntava invece alla dismissione dell'impianto come le associazioni ambientaliste, i 5 Stelle e il sindaco Galimberti. Il ministero segue però l'articolo 35 del decreto legge sblocca Italia, che prevede il progressivo riequilibrio socio-economico sul territorio nazionale per lo smaltimento dei rifiuti tramite la differenziata e il riciclo. Una scelta del governo che però non fa altro che confermare l'esistente, anzi rafforza la rete di inceneritori attivi in Italia. Massima delusione dunque da parte del deputato Franco Bordo, che ricorda le scelte attuate in altri paesi, dove la differenziata è stata potenziata a un punto tale da consentire una svolta epocale. Anche per Lucia Lanfredi, dei 5 Stelle di Cremona, la responsabilità è del governo, più del presidente del Consiglio Matteo Renzi che del Ministero dell'Ambiente. Il governo non fa altro che tutelare le lobbies, invece di prendere atto delle proteste di un gran numero di cittadini e di associazioni. Nelle regioni del Nord, infatti, le proteste nei confronti dello sblocca Italia in questi giorni sono molto forti. Il sindaco Gianluca Galimberti per Lucia Lanfredi dovrebbe opporsi, anche perché ha promesso di dismettere l'inceneritore entro tre anni dall'elezione. Il 19 settembre l'incontro pubblico dei grillini in Piazza Roma con il deputato Toninelli sarà un'occasione di protesta. Le associazioni ecologiste cremonesi, unitesi con Creafuturo, hanno partecipato a un presidio in regione martedì. Ieri, invece, l'assessore regionale Claudia Terzi è intervenuta in un vertice al Ministero dell'Ambiente sullo stesso argomento. Malgrado la contrarietà della regione, arriveranno quindi i rifiuti dal Meridione al Nord e anche a Cremona. Nei giorni scorsi, l'Istituto Nazionale Ispra per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha diffuso i dati sulla differenziata nelle regioni e nelle province italiane, evidenziando il ritardo del Sud Italia. Cremona si trovava però, a fine 2013, a metà graduatoria nazionale, battuta da molte province del Nord. Da parte propria, il sindaco attende entro dicembre l'esito di due studi sulla dismissione dell'impianto di San Rocco da parte della regione IDLGH, dopo lo studio del Consorzio LEAP, che prevede la dismissione negli stessi tempi stabiliti dal Ministero.